Nel finale il Casalveccio riesce a battere il Rivera, 2 a 1 grazie ad una doppietta di De Luca. Sì, diciamo che ci siamo stati molto fortunati, sicuramente siamo entrati male in campo, si vede che abbiamo delle difficoltà come organico, delle essenze importanti, non deve essere una giustificazione, però per ora soffriamo. Siamo fortunati a trovare due gol, i tre punti per noi sono abbastanza importanti. Un primo tempo da entrambe le parti è giocato forse male, nella ripresa entrambe le squadre avete giocato a calcio? Diciamo che loro ci hanno messo molto in difficoltà, loro sicuramente nel primo tempo molto meglio di noi, abbiamo sofferto. Nel calcio purtroppo ci stanno anche queste partite, bisogna soffrire, quest'anno è un anno che bisogna soffrire. Ripeto, non ci siamo al momento come gioco, ci prendiamo i tre punti e guardiamo avanti. La nota positiva è che Casalveccio ci mette i grinti a determinazione fino all'ultimo, di fatti questa vittoria è maturata su un calcio di rigore nel tempo di recupero. Sì, alla fine è andata bene, la caratteristica che in questi anni ci siamo portati è stata sempre la cattiveria, non mollare mai e questo anche oggi ci ha ripagato dei sacrifici che facciamo. Sicuramente a livello di gioco siamo molto indietro, non riusciamo ancora a esprimerci, quindi ripeto, bene tre punti ma male tutto il resto.